Non è cambiato in realtà nulla, semplicemente la delibera di qualche giorno fa ha spostato dall'azienda alla regione la scelta, perché nelle vecchie delibere veniva indicata l'azienda Marche Nord come attore, mentre in realtà di fatto stiamo lavorando direttamente come regione. Così il presidente della regione, Luca Ceriscioli, ha motivato la decisione di questa delibera, approvata dalla Giunta il 22 febbraio scorso, ma di cui si è venuti a conoscenza soltanto mercoledì, dopo che il consigliere regionale Pier Giorgio Fabri ne ha girato una coppia al Movimento 5 Stelle di Fano. Questo documento ha scaldato gli animi dei vari partiti e lasciato stupiti i sindaci del territorio che non ne avevano avuto notizia. Sarebbe un paradosso, dopo dieci anni che ne discutiamo, vedere altre realtà che si mettono d'accordo e creano tutte le condizioni per realizzare e noi che siamo ancora a perdere tempo. Ma io credo di tempo ormai ne sia rimasto poco perché avevo preso degli impegni anche in campagna elettorale, ovvero quello di chiudere i vecchi progetti regionali. L'ospedale di Fermo è stato appaltato, ci abbiamo messo 70 milioni e verrà realizzato il Salesi, che è un altro ospedale estremo importante, aveva avuto la conferma di fondi pochi giorni fa e siccome al terzo posto c'era Marche Nord, vorrei continuare con questa scaletta. Non si torna indietro dunque sul nuovo ospedale e tra i siti rimasti in ballo, e cioè Chiaruccia, Fosso Segliore, Case Bruciate e Muraglia, per ora non c'è nulla di definitivo. Entro un mese poi Ceriscioli convocherà di nuovo i sindaci coinvolti. Io sono convinto che tutti i siti selezionati fino ad oggi vanno tutti bene, quindi parto esattamente dal concetto opposto, che le differenze sono talmente minime che non pregiudicano la scelta. Però è giusto avere tutti gli elementi sui quali valutare per poi chiudere rapidamente questo percorso, perché paradossalmente, mentre qua si continua a discutere, nel resto della regione stanno davanti un percorso analogo, voluto fortemente, ovvero quello di mettere insieme e aggregare le principali strutture, vale per la provincia di Macerata, vale per la provincia di Ascoli Piceno, e devo dire che stanno prendendo questo impegno con una certa determinazione. Alcune comunità dicono che la regione non stia ascoltando le loro richieste, nel caso in cui, ad esempio, l'ospedale dovesse essere costruito, realizzato, ampliato, insomma, a muraglia, loro si troverebbero in grosse difficoltà. Ecco, ti racconto anche delle loro richieste? Non esiste più il concetto o l'idea che ogni città possa avere il suo ospedale. Se ne deve scegliere uno che deve servire per tutti, quindi con questo spirito bisogna affrontare. Io vedo invece molto nel dibattito l'idea di ospedale mio, ospedale tuo, allora se più vicino alla mia città va bene, se più lontano dalla mia città va male. Noi dobbiamo pensare a strutture che abbiano tutto quello che serve per la salute, prima di tutto, che siano quindi di alta qualità, che concentrino i servizi e le tecnologie, che siano ben accessibili, magari con un bel parcheggio attorno e facilmente raggiungibili da tutti i punti della provincia. Questo è un po' lo spirito con il quale bisogna lavorare, bisogna proprio uscire da questa mentalità, chiamiamola di campanile, e invece proprio avendo la possibilità di portare tutti questi progetti alla visione, chiamiamola, degli amministratori che sono poi protagonisti di questo percorso, dargli quegli elementi di valutazione che aiuteranno a chiudere il cerchio e partire con la parte concreta che è quella della realizzazione per offrire un servizio veramente di grande interesse per la nostra comunità. Grazie a tutti.